Paura a Campo San Piero, la filiale di via Contrarialto della Banca Popolare di Verona, dove a causa del cortocircuito del Bancomat, tutti gli uffici dell'Istituto di Credito sono stati invasi da fumo denso e acre. Uno shock per i dipendenti che hanno temuto il peggio, hanno spalancato porte e finestre prima di uscire dallo stabile e incomprensibile stato di agitazione. Banca evacuata, sino a che non è stata ripristinata la normalità. Al momento dell'incidente non c'era alcun cliente, cosa ancora più importante, nessuno è rimasto intossicato. Quasi una coincidenza, proprio poco prima del principio d'incendio alcuni tecnici avevano fatto infatti un sopralluogo all'impianto di prelievo, verificando un guasto allo stesso Bancomat che poco dopo è andato in tilt.